Il primo Zuppo Giuseppe che è in rinventa, ha staccato il Fabio Rossi, intanto ultimo giro per un grandissimo Carlo Grizione, ottima gara direi, fantastica per Carlo. Ecco il nostro Fabio Rossi, sul percorso impegnato per l'ultimo giro, dopo il senso di questo momento, anche il corso, questo vi fa più di onore, un grazie infinito, fino a ieri sera era sul percorso. L'ultimo giro anche per il nostro luogo di penna, il nostro sindone, ha perso la barattina del posto.